Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di sicurezza domestica e lo facciamo ancora in compagnia di EZ-Vizze. Oggi vi porto da questo marchio una videocamera di sorveglianza motorizzata in grado di riprendere a 360 gradi. Davvero interessante perché in grado di registrare a 2k a 210 giorni di autonomia per quanto riguarda la batteria perché lei ovviamente non ha bisogno di connessione a livello di alimentazione elettrica quindi è totalmente autonoma dal punto di vista dell'alimentazione ovviamente i 210 giorni sono in modalità risparmio energetico quindi con determinate caratteristiche che poi vedremo dopo perché comunque lei ha varie impostazioni che possiamo andare a regolare quindi in base appunto a quello che andremo a regolare cambieranno ovviamente i giorni di durata della batteria. Comunque viene data per 210 giorni a un codec H265 per quanto riguarda la registrazione dei video sulla micro sd ovviamente resiste alla pioggia resiste all'acqua all'umidità alla neve è ovviamente una telecamera da esterno e poi come tutti i prodotti EZ-Vizze è facilissima da installare e utilizzabile con la sua applicazione EZ-Vizze che ci permette di utilizzare qualsiasi videocamera e sorveglianza appunto in un'unica applicazione infatti io ne ho più di una installata qua a casa mia sono versioni diverse in base all'utilizzo che devo avere e in base alla situazione in cui le ho montate ma tramite un'unica applicazione riesco praticamente a controllarle tutte quindi detto tutto questo iniziamo a vedere cosa troviamo all'interno della confezione troviamo innanzitutto tutti i manuali di istruzioni sia dell'installazione che la configurazione con l'applicazione tutti i vari manuali di certificazione e assistenza poi troviamo un cavetto usb micro usb per la ricarica della batteria l'alimentatore ovviamente non è in dotazione ma basta attaccarla ad un pc o qualsiasi alimentatore per smartphone per andare a ricaricarla poi abbiamo un sacchetto con vite e fischer per andare a fissare la videocamera e poi abbiamo questo piccolo cartoncino che è la dima per segnare e poi per andare a bucare appunto i punti giusti dove andare a mettere i fischer e poi infine troviamo lei la ezviz cb8 guardate quanto è grossa rispetto alla mia mano ovviamente lei è in grado di ruotare in tutte le direzioni usando l'applicazione o andando anche lei in autonomia attivando l'active track perché lei ha l'active track e dopo lo vedremo qua abbiamo il pulsante d'accensione e di spegnimento qua abbiamo lo sportellino dove possiamo andare ad inserire la micro usb per la ricarica o andare a collegare anche un piccolo pannellino solare che venduto ovviamente separatamente che in grado di tenere alimentata la batteria quindi non avremo più neanche il problema della batteria che si va a scaricare poi qua dietro abbiamo è un piccolo sportellino dove abbiamo sia il pulsante di reset se dobbiamo resettare la videocamera che dove c'è lo slot per andare a inserire la micro sd perché ovviamente noi abbiamo sì nello smartphone le notifiche con una piccola anteprima di quello che è la notifica quindi una sorta di un micro video che è accompagnato appunto alla notifica di avvistamento rilevamento di un soggetto ma se vogliamo avere delle registrazioni proprio a livello di filmato dobbiamo andare inserire qua una micro sd qua sotto vedete abbiamo un led sì perché lei avendo un led di illuminazione è in grado di filmare anche al buio a colori praticamente quindi lei illuminerà la zona e a quel punto allora in grado di registrare a colori anche quando è buio e poi questo led di illuminazione anche un led di segnalazione per il malvivente che sta tentando di entrare in casa nostra perché appunto accendendosi in maniera abbastanza decisa vi garantisco che è molto decisa l'accensione di questo led è molto forte e segnala appunto al malintenzionato che la videocamera di sorveglianza lo ha visualizzato qua abbiamo la staffa quella che va fissata appunto su parete o su un palo io l'andrò a fissare in quella posizione la su quella diciamo trave di alluminio che appunto qua sopra mi ho pergolato perché voglio appunto mettere in sicurezza dal punto di vista di videocamera di sorveglianza tutto il terrazzo prima avevo una videocamera di sorveglianza classica fissa in quell'angolo che ho spostato nell'altra parete sempre una ez viz che mi mette in sicurezza il lato sinistro della casa o meglio alla mia sinistra attuale mentre il terrazzo essendo un'area ampia essendo un rettangolo andandolo a fissare appunto la sopra avrò la possibilità di avere diciamo un occhio a 360 gradi per andare a scollegare la staffa dalla videocamera è semplicissimo basterà andare a tirare in giù la leva qua davanti se avete sentito il clac e andare a sfilarla quindi a questo punto potremo andare a fissare la staffa e poi andare a ganciare la videocamera di sorveglianza che poi si sgancerà e ganciare in maniera super semplice è possibile fissarla sia a soffitto che ovviamente a parete perché vedete che è forata su entrambi i lati quindi da tutto questo prima di iniziare a vedere come funziona questa ez viz cb 8 2k andiamo a fissare la staffa scala trapano staffa e viti perfetto abbiamo messo la staffa adesso possiamo attivare la videocamera di sorveglianza e poi andarla a posizionare allora per prima cosa basterà andare accendere la nostra videocamera di sorveglianza con il tasto qua sotto e vedete che si è acceso un led ovviamente lei parla anche e qua abbiamo uno speaker perché ovviamente questa telecamera di sorveglianza e bidirezionale cosa vuol dire che dall'applicazione possiamo anche parlare e ricevere ovviamente l'audio quindi se noi parliamo dallo smartphone chi è qua sul terrazzo tipo mentre io sono in qualsiasi altra posizione anche fuori di casa perché ovviamente lei si connette alla rete wifi domestica e dopo ovviamente con lo smartphone nella nostra rete 4g quando siamo in giro possiamo parlare all'interno dell'applicazione e l'audio o meglio la nostra voce uscirà da qua stessa cosa è l'ingresso nel senso che lei se vogliamo in grado di diciamo ricevere tutti i suoni tutti i rumori che ci sono qua sul terrazzo e nello smartphone ovviamente li potremo sentire in live ma questo lo vedremo tra poco per andare ad installare la nostra videocamera di sorveglianza cb8 2k è semplicissimo basterà andare a aprire la nostra applicazione e zviz disponibile sia per us che per android a questo punto basterà andare a cliccare il più in alto a destra aggiungi dispositivo telecamere e con il qr code che abbiamo in questa posizione della videocamera come vedete qua andiamo ad inquadrarlo con lo smartphone ed ecco qua dispositivo aggiunto a questo punto lei adesso è già configurata qua da me perché ovviamente l'ho testata l'ho provata non mi fa continuare altrimenti ci sarebbe una voce che ci fa continuare ci fa inserire i dati della nostra rete wifi quello che è poi la nostra password della nostra rete wifi una volta fatto quello lei è pronta ad essere utilizzata la cosa bella è che se abbiamo già un dispositivo e zviz collegato alla nostra rete wifi tramite ovviamente l'applicazione zviz la password la mette in automatico perché ovviamente abbiamo già un dispositivo connesso a questa rete wifi e quando noi la selezioniamo in automatico ce la va a mettere quindi davvero super semplice poi l'applicazione è configurabile sia con lo sblocco facciale nel caso di iphone o di altri smartphone o con il touch id o con l'inserimento ovviamente di una password quando andremo aprire appunto l'applicazione zviz questo ovviamente anche per un discorso di privacy e sicurezza adesso lei è già pronta e disponibile infatti se io vado nella mia schermata principale dell'applicazione dove ho tutte le videocamere di sorveglianza e zviz vedete che è la prima che terrazzo perché così l'ho chiamata perché comunque la si può chiamare come si vuole in base alla posizione in cui la andiamo a mettere per avere appunto un riconoscimento veloce quando dobbiamo andare a selezionarla e vedete che lei è già pronta ci ha attivato l'audio quindi si sente l'audio che esce dallo smartphone e basso provato a disabilitare basterà cliccare sul simbolo dell'audio nella schermata qua dove c'è la live di quello che inquadra la videocamera e disabilitiamo l'audio vado a posizionarla sulla trave in alluminio così ve la faccio vedere in azione andare a posizionarla è davvero semplice una volta che la staffa è installata basterà farla scorrere nell'apposita guida e quando sentiamo il clac lei è già fissata quando dovremo sbloccarla basterà come vedete tirare giù una linguetta di plastica e sfilarla per poterla ricaricare se non abbiamo messo un pannellino solare che mantiene carica la batteria come vi ho detto 210 giorni ma se impostiamo il risparmio energetico massimo quindi torniamo a vedere come il menu e vediamo che il discorso appunto del risparmio energetico perfetto allora la videocamera l'abbiamo posizionata adesso vedete che lei mi sta già inquadrando continua ad accendere quello che il led di segnalazione perché ho attivato il rilevamento della persona che lo troviamo ovviamente nelle impostazioni le impostazioni come tutti i prodotti z viz li troviamo in alto a destra nella schermata live dove c'è questa specie di esagono e qua abbiamo tutte le funzioni principali allora vedete che la prima voce risparmio energetico quello che vi dicevo prima abbiamo tante modalità diciamo pre configurate è in base appunto all'utilizzo che ne dobbiamo fare ovviamente sul risparmio energetico e alto risparmio energetico e dove abbiamo la maggior durata della batteria nelle altre modalità ovviamente ci sarà un consumo maggiore della batteria vedete tipo la telecamera registra tutto il giorno 24 ore a quel punto capite che la batteria non potrà mai durare 210 giorni almeno che non ci mettiate un piccolo pannellino solare che è venduto separatamente e poi abbiamo anche una modalità configura la modalità di funzionamento in cui decidiamo noi cosa vogliamo che faccia la telecamera oltre a quelle diciamo pre configurate che magari non hanno proprio tutte le caratteristiche che noi vogliamo abbiamo rilevamento intelligente ovviamente lei ha un sensore di rilevamento della persona o del movimento cosa vuol dire che lei se ci segnala che è stata rilevata una persona se selezioniamo rileva figura umana quindi solo nel caso di rilevamento di figura umana quindi non rileverà cani gatti quindi non continuerà a diciamo mandare avvisi senza un motivo non manderà avvisi se si muove una tenda piuttosto che un ramo piuttosto che qualsiasi altra cosa possa muoversi se abbiamo attivato rileva figura umana se invece selezioniamo rilevamento peer a quel punto lei qualsiasi movimento ci manderà la notifica sensibilità di rilevamento appunto è facile da capire appunto la sensibilità del sensore di rilevamento io ce l'ho impostato 85% poi abbiamo zona di rilevamento questo è interessante perché cos'è è la diciamo l'area di rilevamento possiamo andare ad oscurare determinate aree così che lei quando diciamo va ad inquadrare quelle aree quelle aree non verranno diciamo viste nell'immagine saranno oscurate questo per un discorso magari di privacy o via dicendo poi abbiamo notifiche notifiche audio lei potrà parlare quindi a questo punto in questo momento io ho silenzioso ma se dovesse andare a mettere modalità audio avviso sonoro cosa vuol dire che quando lei rileva un movimento avrà un avviso sonoro possiamo andare a mettere un suono personalizzato o configura vedete avviso acustico quindi sempre qualcosa di quello che è appunto un discorso sonoro se io adesso per farvi capire vado a mettere avviso sonoro mentre prima avete visto era sul silenzioso impostazione riuscita possiamo andare a cliccare su test vedete questo è il suono che lei emetterà ogni volta che rileverà una figura umana altrimenti possiamo andare a personalizzarlo o a mettere anche audio appunto una voce che dice una determinata frase tutto quello che vogliamo vado a rimettere silenzioso torniamo fuori poi abbiamo notifiche messaggio cos'è notifiche messaggio sono ovviamente le notifiche nello smartphone adesso non mi arrivano le notifiche che lei mi continua a rilevare ma sono disattivate nello smartphone che altrimenti continuerebbe venire fuori la notifica e mi crea troppo stress mentre sto usando l'applicazione per spiegarvela quindi ho disabilitato le notifiche nello smartphone anche se ovviamente nell'applicazione sono attivate in questo momento ma le ho disabilitate proprio le notifiche generali nello smartphone appunto per un discorso di registrazione dello schermo e vi dicendo quindi cosa vuol dire che quando lei rileverà un movimento di figura umana se abbiamo attivato la figura umana o di movimento qualsiasi se abbiamo attivato la rilevamento peer ci arriverà direttamente la notifica dello smartphone ovunque noi siamo quindi non solo se siamo qua a casa ma ovunque noi siamo poi possiamo andare a configurare notifiche cosa vuol dire che se vado a configurare notifiche vedete posso andare a di quando non voglio le notifiche quindi in determinati orari e giorni della settimana non voglio le notifiche tipo magari al pomeriggio so che sono io che sono a casa quindi al pomeriggio è inutile che mi mandi le notifiche perché magari sono quasi sul terrazzo che vado avanti indietro mia figlia che gioca qua sul terrazzo a quel punto sarebbe una raffica di notifiche allucinante quindi possiamo andare a appunto programmare quando vogliamo le notifiche torniamo indietro nel menu abbiamo impostazioni audio qua possiamo andare a decidere se vogliamo che nel video che lei registra sulla micro sd ci sia anche l'audio o se vogliamo che non ci sia appunto il suono o quello che lei registra a livello di ambiente poi messaggi vocali del dispositivo che sono appunto i messaggi vocali che lei emana quando la configuriamo qualsiasi cosa noi facciamo lei comunque parla e da lì li possiamo andare a disabilitare poi abbiamo impostazione immagine e diciamo la qualità dell'immagine non dal punto di vista della definizione ma quanto proprio dei colori vedete originale morbido o vivace che proprio la tipologia dei colori che lei va a registrare poi abbiamo visione notturna colori cosa vuol dire che se attiviamo la visione notturna a colori lei accenderà questi faretti a led per illuminare l'area e ci permetterà di vedere a colori quindi non il classico bianco e nero quando usiamo la luce ad infrarossi che diciamo abbiamo il bianco e nero ma abbiamo appunto questi faretti che illuminano in maniera davvero allucinante e riescono a darci il ritorno video e la registrazione sulla micro sd a colori se invece non vogliamo che lei accenda questi faretti perché non vogliamo che lei segnali che ha visto qualcuno cosa succede andiamo ad attivare visione notturna in bianco nero e lei farà la classica diciamo registrazione video con il bianco e nero cioè usando l'infrarosso quindi non andrà ad accendere nessuna luce poi abbiamo impostazioni ptz cos'è il ptz è il movimento appunto della videocamera quello che è appunto il muoversi il ruotare della videocamera di sorveglianza qua abbiamo monitoraggio persona che l'active track sì perché se io vado ad attivare questo active track vado ad alzarmi lei va a rilevarmi acceso il led se io mi sposto lei continua a girare e cerca di tenermi sempre inquadrato è questa la sorta di active track ovviamente non lo fa in maniera super veloce ma riesce a farlo e ragazzi è davvero interessante soprattutto se magari dobbiamo controllare anche se magari abbiamo un bambino che gioca in una determinata area o appunto anche il malintenzionato che si muove sul terrazzo in questo caso nel mio caso un terrazzo lei continuerà a tenerlo inquadrato e ragazzi è tanta tanta roba questo active track poi tornando a quello che sono le impostazioni abbiamo le ultime da vedere abbiamo batteria che ovviamente è facile intuire quanta batteria abbiamo ancora disponibile in questo caso 42 per cento e poi qua sotto abbiamo le varie impostazioni di archiviazione ok cloud play è un servizio a pagamento ma non è obbligatorio farlo o abbiamo gestione archivi in questo caso non ho nessuna memoria micro sd inserita altrimenti cliccando qua andrei a vedere quanta disponibilità di memoria ho ancora all'interno della micro sd e soprattutto posso formattare anche la micro sd all'interno appunto di questa schermata torniamo nella schermata principale e vedete che qua sotto in basso abbiamo varie opzioni questi qua sono tutti piccoli screenshot anzi video che durano veramente poco vedete 1 12 secondi 1 29 secondi sono tutti i rilevamenti di movimento in cui lei mi invia la notifica e fa questa piccola registrazione video ovviamente nella micro sd avremo una qualità maggiore e potremo avere anche video più lunghi e non così brevi dal punto di vista dei secondi se vogliamo impostare appunto un maggiore durata del video qua sotto la prima voce istantanea che sarebbe una foto di quello che sta inquadrando lei in quel momento la faremo noi appunto dallo smartphone che abbiamo registra cliccando qua vedete parte la registrazione video e ci verrà ovviamente tutto registrato nello smartphone quindi molto comodo ovviamente siamo noi che la facciamo partire o meno mentre quella micro sd parte per altri motivi poi abbiamo ptz che sarebbe il joystick di controllo della videocamera in sovveglianza questo ovviamente comodissimo perché da qua vedete possiamo andare a muovere la videocamera a destra sinistra guardate quanto riesce ad inquadrare con una rotazione pazzesca che arriva poco meno di 360 gradi si ferma mi sembra a 350 gradi perché ovviamente non fa la rotazione completa ma è come se fosse un 360 gradi davvero incredibile quanta qualità poi abbiamo dal punto di vista video perché come vi ho detto è una videocamera 2k e in più ha il codec video di registrazione h265 quindi poco spazio occuperanno i video ma avranno tanta qualità quindi ritorniamo nella posizione centrale dove ci sono io e continuiamo a vedere le ultime cose del menu qua sotto abbiamo chiamata in corso cosa vuol dire che se io vado a cliccare qua vado ad attivare il microfono quindi quando io parlo nel telefono si sente nella videocamera di sorveglianza ovviamente un casino allucinante in questo caso perché sono qua poi abbiamo definizione in base ovviamente a quelle prestazioni della nostra rete wifi e se vogliamo avere più o meno fluidità nel video potremmo andare a scegliere quale qualità vogliamo abbiamo ultra hd abbiamo il full hd e le definition che sarebbe la risoluzione è quella un po più scarsa poi abbiamo panorama 360 gradi lei ci fa una panoramica dell'ambiente riprendendo 360 gradi poi abbiamo allarme quindi faremo partire noi in manuale l'allarme perché magari vediamo che c'è un qualcosa di sospetto nell'ambiente in cui l'abbiamo posizionata allarme e facciamo partire noi appunto questo suono fastidiosissimo e poi abbiamo riordinare che riordinare ovviamente tutti i file che abbiamo registrato quindi ragazzi questa è zviz cb8 2k avete visto una videocamera di sorveglianza semplicissima da utilizzare come tutti i prodotti e zviz con unica applicazione li utilizzate tutti e ragazzi è davvero tanta roba è un bel boccione come avete visto perché comunque abbiamo tanta tanta qualità abbiamo i faretti a led che illuminano per vedere anche al buio cioè veramente pazzesca è super silenziosa nel muoversi cioè praticamente non fa il minimo rumore non si sente quando ruota è davvero incredibile programmabile avete visto in base all'orario la settimana tutto quello che il nostro utilizzo è quello che noi ne dobbiamo fare con questa videocamera di sorveglianza è davvero davvero pazzesca e come sempre ragazzi trovate il link del prodotto qua sotto in descrizione o sul mio canale telegram offerte dove posto tantissime volte i prodotti e zviz quando sono in offerta su amazon quindi ragazzi se questo mio video in cui ho portato questo prodotto secondo me fantastico della ezviz questa cb8 2k vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità prime spoiler dei prodotti anche di lei ovviamente spoiler mi erano arrivati sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale infatti zviz è spessissimo sul mio canale telegram offerte ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test tutorial una novità ciao al prossimo video ciao 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 ciao